La protesta da parte di un centinaio di cittadini al comune, l'occupazione del comitato di quartiere della zona 167, ma anche la storia di disperazione di una famiglia del centro storico raccontata ieri da .tv, sono tutti sintomi del grave disagio sociale che affligge Bitonto negli ultimi tempi. Situazioni che invece di cementare la classe politica hanno scatenato polemiche sulle quali è tornato il consigliere del PD Franco Natilla per spiegare la posizione del partito. Io sono stato presente una quindicina di giorni fa ad un incontro richiesto fortemente voluto da alcuni cittadini ai consiglieri comunali e al segretario del Partito Democratico. Questo incontro si è tenuto senza alcun tipo di organizzazione, in maniera del tutto spontanea nella sede del Partito Democratico. Erano presenti quella sera oltre una cinquantina di persone che vivono purtroppo un profondo disagio socio-economico. Ebbene, noi quella sera abbiamo fatto da filtro della rabbia di queste persone nei confronti dell'amministrazione a Baticchio, tant'è che abbiamo detto loro che non ci saremmo resi promotori di un incontro con il Sindaco e con l'amministrazione comunale tutta, se non con una delegazione di 5-6 persone e così è stato nel primo incontro che il Sindaco a Baticchio ha promosso. Nel secondo, io non so cosa sia accaduto, evidentemente questa grave situazione di disagio di queste persone ha portato non solo la delegazione con i consiglieri comunali, non solo di minoranza del PD, ce n'erano anche di maggioranza, ha portato anche l'afflusso di altre persone. Perché guardi, il problema a Bitonto è gravissimo. Natilla chiede ad Abaticchio di rivedere le priorità di intervento per assicurare maggior attenzione a chi è in difficoltà. Io mi rendo conto che probabilmente il Sindaco a Baticchio, più che sordo a queste richieste, gli riesce difficile concepire cosa possa significare per una famiglia che vive con uno stipendio di poche centinaia di Euro, riuscire a mettere il piatto sulla tavola, perché oltre che ad essere un pubblico dipendente, è vero che, e risulta da atti pubblici, il Sindaco conserva partecipazioni importanti in società di consulenza. Ecco perché la sua attenzione, ed è questo che noi condanniamo, è rivolta essenzialmente alla formazione nell'ambito della cultura in generale e specificatamente nell'ambito del teatro. Dopo la manifestazione a Palazzo Gentile, il Sindaco per la verità tenne a precisare che non si possono tassare i propri cittadini fino al punto di garantire i sussidi e borse lavoro per tutti, pensando a migliaia di altri cittadini onesti che soffrono sulle strade.